Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di PES 2020 di Serie A Leggente Mi raccomando, se la serie vi piace, spolliciate e condividete E come sempre vi faccio vedere sempre prima la squadra che andremo ad affrontare E poi giochiamo Questo è il Parma Rosa squadra Bocci, Minotti, Sensini, Benarrivo, Mussi, Dino Baggio, Pin, Deron, Ortega, Gianfranco Zola, Adriano, Cilestino, Paffarello, Apolloni, Jun, Vanoli, Stanic, Stefano Leone, Osio, Brolin, Nakata, Quoghi, Mutu, Jovinko, Enrico Chiesa, Grispo, Melli, Divaio e Amoroso Questo è il Parma Mi raccomando ragazzi, se vi siete persi gli altri episodi, vi metto il link in alto a destra Lì in alto a destra Andate lì a recuperare Ragazzi, se volete consigliarmi qualche formazione o volete vedere qualche calciatore in particolare Che io inserisca nella formazione, scrivetemelo sotto nei commenti E magari nella prossima partita userò la vostra formazione Andiamo al calcio d'inizio Buona missione Parma di Ventus Ennio Tartini Ci sono due gigi Due gigi buffon, due carnavari, due turam Quasi una squadra fotocopia Con un'altra cosa di incredibile Dai, facciamo gli questi Dai, vissi? Dai, vissi? Non poteva fare molto altro Vai, Roberto Paggio Vai, Robby Vai, Robby Roberto Baggio 1-0 troppo forte Robby 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 Nude 1-0 rivediamo il gol il secondo centro in questa stagione Roberto Baggio fa solo gol belli sterza e inzacca Cannavaro non ce la fa a recuperare Pauva grande Roberto grande Roberto Roberto Baggio Robby cacchio vai Antonio Cassano ci prova segna Robby Robby Nude ma ma Michelle 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 dai 3-seghe Pirlo recupera sta palla orca paletta turam turam mamma buffone mamma buffone frati mamma platinic difumato e zitana e zitana fallo se fallo qua Pirlo la deve buttare dentro vediamo platinic la buttare dentro vai Michelle ecco il tiro la fangolo Michelle vai Milo mamma mia non mi fanno calciare finiscono soffiato l'inizio di questa seconda parte abbiamo assolutamente chiudere il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza devono dimenticarsi il gol che continuare a fare stai scuola tu vamo dai per se che dai per se che molto fallo questo è certamente una buona partita stavolta di rapirlo perché potrà tenere il matrimonio il matrimonio altrimenti si mette malissimo Andrea Pirlo ma che gol l'ha fatto Andrea Pirlo su punizione 2-0 che gol l'ha fatto Puffano non ci arriva Capri 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 Zambrale è perso Zambrale è perso Antonio Antonio Antonito non vale che ha calciato in porta let go Zoratto non sai che gol l'ha fatto io non so che Cassano ci arrivava Cassano oh c'è Davids ha fatto salta proprio Cassano la mette in mezzo e ci arriva Zoratto tutto solo la mette dentro ma è David mamma come hai fatto a fumarti anche questo ah provaci Alex provaci Alex va bene Alex va bene Alex va bene 2-1 Roberto Guaggio Andrea Pirlo e gol di Vizzoratto nel finale questi sono gli altri risultati andiamo avanti andiamo alla classifica siamo primi assieme alla Fiorentina che ha fatto 8 gol 0 subiti mentre noi 6 gol fatti 2 subiti va bene andiamo ragazzi la prossima è contro il Bologna e la prima cosa che vi faccio come ho fatto anche negli altri video vi faccio vedere la squadra contro il cui andremo a giocare cioè il Bologna vi faccio vedere da chi è composta rosa squadra il Bologna ci sta Antonioli Montidio Mangone Furlanis Gabrini Anderolo Ingeson Holler Roberto Baggio Nielsen Signori Negri Bellucci Yannick Palavanti Paminato Fogli Pulgarelli Petri Eseguzzoni Roberto Mancini Schiavio Osteriano Puricelli Pachiuca Tumborus Gasperi Lupi Turlisi Roversi Marocchi Fontolan Nervo Pecci Pascutti Perani Diamati Savoldi Givaio Anderson e Cruzzo Cacinzia L'incontro L'incontro di oggi ha tutte le carte regola per rivelarsi spettacolare Peccato solo che il tempo sembri volerci mettere i bastoni tra le ruote Secondo le previsioni a nostra disposizione esiste solo un 50% di possibilità di pioggia Tutu 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 Gentile riuscire a Caprini Pirlo Vai 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 Ravanelli Lo fa gol con Ravanelli Conte Antonio Conte Gentile Claudio gentile Conte Conte Ravanelli 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 Ma che quell'ha fatto Ravanelli Proprio lui Fabrizio Ravanelli Ravanelli 1-0 Che golo che ho fatto Però è bello anche l'assist Assist È stato di Tardelli Se non sbaglio Se non sbaglio Era Tardelli Ravanelli Tardelli Ravanelli Ravanelli Fatto pure l'arrivo anticipa tutti E sacca Rade Ravanelli Bravo Bravo Cazzo 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 Navarro Se gira Se gira Se gira Ravanelli Ravanelli Fabrizio Ravanelli Doppietta Troppo forte Troppo forte Tutto troppo facile Si gira Si gira E la piazza E la piazza Ravanelli Dai 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 rumane Muò, rumane Ravanè Quello più facile è stato sbagliato si fa trovare sull'attore di 10 un po' più veloce si arriva Boni-Perti Shirea Shirea esce recupero aiaiaiaiaia cattavaro nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel senso adderava 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 oh dai mi potete rivolto a casa ma che sto facendo guarda che mazza chiudirò Paolo Oh, il cavoletto! E come gliela devo togliere? Oh, forse dicevo che ho gol su G. Bravo Zoffo! Bravo Dino! Niente, niente, niente! Dai, Bisla! Oh, dai! Oh, sempre lunga! Va bene, va bene! Va bene, va bene, due pietti di Ravanelli e si portano a casa tre punti. Questi sono i risultati delle altre partite. Ok, vediamo la classifica. Siamo primi da soli. Juventus 12, Roma seconda a 10 punti. Poi c'è sta Fiorentina e Napoli. 8 gol fatti, 2 subiti. Raga, la prossima è contro l'Udinese. Per questo video è tutto, se il video vi è piaciuto vi raccomando, lasciate tanti like, condividete e iscrivetevi al canale. Non dimenticate di attivare la campanella se vi siete persi. Gli altri episodi andate a recuperare nell'angolino in alto a destra. E vi ricordo, se volete, consigliatemi un'informazione sotto nei commenti. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!